Come avete visto nell'immagine iniziale, ragazzi, questo è il video numero 3 di questa playlist dedicata a questo impianto Victron molto potente con 60 kWh di batteria. Ebbene, oggi vedremo il montaggio di inverter, dei regolatori di carica, vedremo le barre che mettono in connessione le quattro batterie in parallelo, barre molto molto grosse e potenti in alluminio, e vedremo anche l'interno del Victron, insomma, tanti dettagli graduali per andare a farvi capire totalmente come si realizza un impianto Victron dalla A alla Z. Sarebbe impensabile che io vi facessi vedere gli apparati, eccoli qua, sono belli, ecco come sono montati, ma invece su questo canale sempre tanti dettagli, ragazzi. Qui non si vende niente, ma si fa scuola. Voglio che tutti produciate la vostra corrente da impianti piccoli 12 volt fino a queste cose grosse, questi mega accumuli e questi mega inverter. Qui abbiamo 15 kWh di inverter, e ragazzi, ancora una volta, iscrivetevi al canale, vediamo tutti i dettagli. Buona visione! Il primo passo sta nel fissare la staffa che sosterrà l'inverter della Victron, vedete quattro fori, e sono stati posizionati quattro bulloni M8 con i relativi dadi. Adesso procediamo al montaggio dell'inverter Victron. Ed ecco montata la belva, ragazzi. Non è stato facile, incluso nel prezzo, la Victron ti dà anche due terapie dal massaggiatore per riparare alla schiena, ragazzi. Più di 80 kg, doppio toroide in rame interno, veramente è stata un'impresa. Qui vediamo, ragazzi, tutte le connessioni, e pian piano vedremo tutti i dettagli. Bello, mi sta veramente piacendo questo impianto, molto potente, molto professionale. Ragazzi, il nickname che mi avete dato, anche piacevole, non consente che ci possano essere queste impronte digitali sul prodotto e sull'impianto. Sapete che amo proprio la pulizia, cavi fatti in un certo modo, eccetera. Quindi anche qui, ragazzi, facciamo sempre le cose come vanno fatte. Cioè via tutte le impronte e lasciamo gli impianti sempre sobri ed eleganti. Scusate questo perfezionismo, ragazzi, ma so che vi piace. Ed ecco montati i componenti, ragazzi, inverter e quattro regolatori di carica MPPT 150V, 100A. Tutti con connessioni che vedremo in seguito, in modo da verificare tutto un Wi-Fi. Questo è il tower, ragazzi, con le quattro batterie della Mani. Qui siamo a 60 kWh. Questa è una panoramica generale, ragazzi. E qui vedete tutto l'impianto come sarà composto. Ebbene, qui mi sono permesso un po' di ironia perché mi avevate chiamato l'orefice per l'impianto Elerix. Vi ricordate? L'Elerix mi è rimasto nel cuore perché è tutto sotto controllo, molto elegante, col bestione arancione, i vari relais, insomma un impianto veramente significativo, importante. Adesso passando sui Victron abbiamo molta potenza. L'inverter diventa 15 kV A. Avete visto che ho montato i quattro regolatori di carica Victron e li ho scelti apposta perché questi lavorano a tensione di sicurezza. Quindi anche la Victron ha le tensioni di sicurezza. Questi lavorano al massimo a 150V. Mai utilizzarli al massimo. Ecco che l'utilizzo ideale, 4 quinti, sono 120-130V e lì diamo longevità durata. Sono senza ventola, quindi silenziosissimi e molto molto efficienti. Quindi faremo le stringhe proporzionate. È ovvio ragazzi che quando si usano degli ibridi con due cavi da 4 mm quadri o 6 si porta tutta la corrente che vogliamo, ma abbiamo creato stringhe da 300-400V, sono molto molto pericolose. Vi ricordo questo, quando un ibrido dice funziona da 90V a 500V, a 90V è il punto di aggancio, ma non c'è nessuna efficienza e spesso si spegne a 90V. Ecco perché se un ibrido riporta nella targa 90-500V va usato intorno ai 400-420V, 450V, ma la pericolosità di queste tensioni in corrente continua è micidiale. Fate molta molta attenzione, ecco perché su questo canale non si lavora a quelle tensioni. Ebbene con questi 4 regolatori abbiamo 20 kW di pannelli installabili, che è tantissimo. D'inverno facciamo 60 kWh giornalieri, d'estate 100 kWh giornalieri. Con questo impianto, l'ho già detto, farò andare la batteria sabbia, pompe di calore della macchina elettrica e quant'altro. A questo punto andiamo avanti perché vediamo tutti i dettagli. Adesso passiamo alle barre che connettono le batterie in parallelo. Sono due barre 40x20, sono 800 mm quadri di alluminio. Alla fine di questi spezzoni sulle barre che mettono in parallelo le batterie, vi dirò come mai le ho comprate di alluminio e non di rame. Ragazzi, l'ho indovinato in un secondo. Buona visione. Adesso andrò a forare le barre di alluminio che ho scelto. Questa è una barra, ragazzi, un metro di lunghezza ed è 40-20. Bella massiccia, questa abbiamo già visto nel video precedente quanta corrente trasporta. Dovrò fare adesso gli otto buchi di connessione della batteria. Praticamente voglio stare ad un'altezza logica e dato che la barra è più lunga delle batterie andrò a questo punto, vedete, tra sotto e sopra. Dovrò fare otto fori per coinvolgere tutte le batterie e poi far passare il cavo di connessione dell'inverter. Quindi andiamo a fare gli otto fori su questa barra di un certo livello. Questo, ragazzi, è l'ottavo foro M8 di questa barra. Chiaramente sono stati fatti 16 fori in totale per le due barre. Chiaramente bisogna essere molto precisi perché due fori, 4, 6 e 8, devono essere perfetti per poter entrare tutti insieme nelle connessioni delle quattro batterie. Chiaramente il bullone sarà M8 ma il foro è un foro da 9, in modo che lasciamo un leggero mezzo millimetro su ogni lato, mezzo di qui e mezzo di qua, in modo da dare possibilità di entrare comodamente ma senza rubare spazio alla connessione certa. Adesso passiamo alla fase che tutti ben conoscete su questo canale, alla lucidatura perfetta della connessione, in questo caso di alluminio, di questa barra 4020. In modo da portare il punto di connessione veramente a un livello dove c'è una connessione certa. Togliamo queste sgranature. Con cosa lo facciamo? Ci sono tanti metodi ovviamente, potete usare anche lo scotch bright, potete usare le spugne. L'importante è che fate i vari passaggi senza usare carta grossa, quindi la più piccola, la più granafrina deve essere la 800, poi passiamo alla 1000 e passiamo alla 2000. Mi raccomando non insistete sui punti creando dei dislivelli che sono negativi sulla connessione. Procediamo quindi in tutte le direzioni, farò solo questo pezzo per farvi vedere la differenza tra questo pezzo finito e questo invece ancora da fare. Qui siamo già con la 1000. Continuiamo fino all'effetto finale, poi vedremo la differenza. Senza esagerare, ma però vediamo la differenza. Superficie è perfettamente liscia. Guardate questa ancora da trattare con queste righe di trafila molto increspata, si sente anche... la sentite? Invece questa è liscia, vedete? Qui abbiamo uniformato la superficie, vedete? Poi si sporca, fa niente, non è un problema. Ma qui abbiamo una connessione di qualità rispetto a questa. Bene, senza esagerare, quando abbiamo ridotto la superficie a specchio, tipo questa, abbiamo fatto la nostra barra. Ovviamente si può fare anche solo i punti di connessione, che è quello che interessa a noi, ma io per, insomma, per eleganza voglio lucidarle tutte e due anche nella superficie globale. Ed ecco pronte le barre lucidate, connessioni perfette, soprattutto nella zona dei fori, che è quella che maggiormente ovviamente ci interessa, pronte per essere montate sul nostro pacco batterie. Procediamo. Qui vediamo i bulloni, le rondelle, le rondelle spaccate e la pasta Aronix che uso per migliorare la conduzione. E difatti qua vedete che è già stata spalmata nei punti di contatto con la batteria. Procediamo adesso all'installazione appunto delle barre. Ed ecco una panoramica del lavoro effettuato fino a questo momento, dove sono state montate anche le barre di potenza sulle batterie per la connessione in parallelo. Montate bene, lucidate, quattro batterie. E se andiamo a verificare tutte e quattro le batterie negli schermi, verifichiamo che sono a 53,37 di tensione, 98,10 di SOC. La seconda, 53,37 e 98,10 di SOC. La terza, 53,38 e 98,10. E la quarta, 53,36 e 98,10. SOC identico e tensione identica. Questo perché ragazzi? Perché sono state caricate prima al 100%, quindi il SOC si è azzerato e ha ripreso il suo corretto funzionamento. Questo avviene solo con la carica al 100% o la scarica al 100%. Un'altra cosa che vi faccio vedere, ho fatto un foro sulla barra laterale, vedete? Un foro passante sul quale andrò a fissare due cavi, quindi non solo uno, ma una coppia di cavi, uno qui e uno qui, fissati con un bullone passante e ovviamente un dado, e questi due cavi andranno ad alimentare il nostro Victron. Adesso cacciavite alla mano e voglio farvi vedere cosa c'è all'interno del Victron 15 kV. All'apertura si presenta così, sopra c'è tutta la scheda di controllo, vedete con i vari sensori anche che vanno all'interno, poi c'è l'attacco RJ45, qui c'è un interessante probabilmente dry contact, dopo lo vedremo bene nella descrizione, pilotabile, vedete che c'è comune, normalmente aperto e chiuso, diversi integrati, tutti i led di segnalazione, ovviamente fatta molto bene. E sotto invece c'è la connessione, con queste due schede, questi sono tutti gli ingressi e le uscite della rete, vedete, alternata numero 1, numero 2, e uscita in alternata 1 e 2. Connessioni con M6, quindi molto importanti, con cavi che ovviamente devono avere una certa dimensione. Questo è l'ingresso ben separato della batteria, vedete doppia connessione in M8, polo negativo, polo positivo, tutti i vari ingressi per i sensori, per i controlli, per i dry contact, eccetera, eccetera. Qui ci sono i passaggi dei cavi, sia batteria che alternata. E qua c'è l'etichetta, che ne descrive un po' il tutto. Adesso cambio la posizione, e ve la faccio vedere ragazzi, faccio un fermo immagine leggero, in modo che possiate vedere. 48 volt, batteria, 350 ampere, ecco il range è 38, lo vedete qui, 38,66, quindi questo è un inverter che ha un'ottima tolleranza anche per le batterie al piombo, perché è 66 volt ovviamente per quello. Qui vedete 15 kV, quindi 12 kV di potenza massima, e questo è un classico di tutti gli inverter. Bene, questa etichetta ve la lascio un attimo così per farvi trarre delle conclusioni. Ok, adesso smontiamo questo frontale e vediamo all'interno il gruppo di potenza dei trasformatori toroidali. Tolti i due frontalini, con le scritte serigrafate, vedete, dalle quali escono i led, ho visto piacevolmente che sono di alluminio, quindi questi sono veramente, anche il frontalino è totalmente antiruggine, e poi nella parte posteriore del frontalino, quello più basso, ovvero questa, c'è esattamente uno schema per andare già a vedere di primo acchito come posizionare i vari cavi. Aperta la scheda, ragazzi, vediamo all'interno i due toroidali veramente significativi, molto pesanti, e tutta la scheda dei condensatori, ragazzi, qui veramente c'è tanta roba, questi sono da 80 volt, 3900 sono i micro farad, sono i micro farad, in fondo vediamo i dissipatori, insomma, questo non voglio smontarlo, perché non sto facendo una riparazione, o una recensione dei dettagli, dei vari componenti, però ragazzi è fatto bene tutti gli agganci, anche tutti i bulloni, M6, i vari passaggi, e là dietro si vedono, vediamo se riesco a introdurre, ecco qua, si vedono una, due, tre ventole di raffreddamento, perché chiaramente qua quando si viaggia con 10, 11, 12 kilowatt, insomma, la potenza deve essere anche dissipata, e questi sono i due toroidi, ragazzi, devo essere onesto, non lo invidiare col bestione arancione, richiudiamo il tutto, passiamo alle conclusioni finali, peso totale dell'inverter, solo dell'inverter, 84 kg, ragazzi, ho trovato per il momento un difetto nella Victron, guardate questa vite, che è spanata, e quindi ho dovuto sostituirla, ragazzi, facciamo una riflessione su questo, ebbene ragazzi, sono arrivato fin qua a montare, adesso vediamo alcune fasi finali, avete notato la scocca in alluminio, quindi antiruggine, perché Victron monta molto, molti di questi inverter sulle barche, quindi ci deve essere proprio una completa assenza di ferro, e prodotto fatto bene, la scheda, il cervello è significativo, avete visto il gruppo dei condensatori, quanti devono reagire a picchi importanti, i toroidali sono circa così, insomma, un bel inverter, sono contento che ho trovato anche questo difetto, questa vitina che era spanata, probabilmente nel montaggio c'è stato questo errore, così almeno coloro che si alzano la mattina cercando qualcosa di negativo da dire, gli haters, eccetera, si possono sfogare su questa vitina. Adesso vediamo le fasi finali del montaggio delle barre, dopodiché chiudiamo questo video, andiamo avanti ragazzi. Procediamo adesso con la chiave dinamometrica, impostiamola, vedete, io alla impostazione numero 5 ho messo 15 newton, e andiamo a stringere tutti i bulloni. portiamo a questo punto tutti i bulloni a 15 newton. Anche questo video ragazzi sta arrivando al termine, abbiamo visto il montaggio di questa belva da 15 kV, abbiamo visto i 4 regolatori che sosterranno 20 kV di pannelli, queste barre di alluminio e l'avete capito che ho scelto all'alluminio perché il rame oramai ha raggiunto prezzi inaccessibili, ma la portata di questa barra 40x20 800 mm quadri è molto molto alta. Vi ricordo che dovete fare i lavori sempre tutti in sicurezza e per coloro che invece vogliono acquistare già il kit pronto possono rivolgersi all'azienda che è affiliata a questo canale ovvero la FGS. Ebbene, sotto questo video c'è il link dove potete contattarli e scegliere il kit che è più idoneo alle vostre esigenze ovvero i vostri consumi quotidiani che avete in casa nelle 24 ore. Bene ragazzi, spero di aver fatto cosa gradita anche in questo video e andiamo avanti con i prossimi e anche con tutte le altre playlist su questo canale. Vi esorto a iscrivervi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Buona serata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.